L'Avellino e il suo portiere forte hanno praticamente abbassato la saracinesca nel 2021. I Lupi con il nuovo anno hanno incassato solo due reti nei pareggi esterni contro Teramo e Bisceglie, conquistando la bellezza di 14 punti in sei gare. Numeri importantissimi che fanno Di Micello e compagni sotto l'aspetto difensivo la migliore squadra del nuovo anno. Al pari dei Lupi il Catanzaro che di punti però ne ha ottenuti 8 e altre due compagni, la Propatria con 12 punti inanellati ed il Padova che di punti ne ha ottenuti 11. Sono migliorati anche i numeri interni, infatti nelle ultime 5 partite tra le Muramiche, Monopoli, Vibonese, Cavese, Viterbese e Palermo, la porta dei Biancoverdi è rimasta sempre inviolata. Un altro dato riguarda il portiere Francesco Forte, l'ex carrarese, durante le partite interne dei Lupi in cui ha giocato e non ha mai subito gol. Per sei volte al termine dei 90 minuti non ha raccolto il pallone nella propria porta ed è esclusa la nefasta trasferta di Bari al rientro dall'infortunio. Con lui in campo l'Avellino non ha mai perso.